Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di Olympus, non tanto dell'OMSIST ma proprio di Olympus, cioè delle ragioni che hanno portato alla vendita della divisione fotografica da parte di Olympus. Prima di entrare in argomento ti ricordo di iscriverti al canale e di spuntare alla campanellina, un canale con una grandissima quantità di video, ogni settimana pubblichiamo circa tre video legati al mondo della fotografia principalmente ma anche al mondo del video, nelle playlist troverai più di mille video da poter vedere quando vuoi, quindi insomma tanto contenuto, iscriviti al canale, ti ricordo anche se sei interessato a migliorare le tue fotografie se tu vai in descrizione a questo video ho messo i link alle pagine e i video di presentazione dei corsi di fotografia online che però puoi tranquillamente scaricare sul tuo computer quindi guardarli comodamente quando vuoi, dove vuoi, senza limiti di tempo. C'è il corso dallo scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero è il corso più completo che può trovare in rete dedicata al bianco e nero, il corso dedicato alla composizione con strategie base avanzate per migliorare la composizione fotografica e il nuovissimo corso completo, completissimo, dedicato al flash fotografico per impararlo veramente ad usare in ogni situazione, quindi va in descrizione e trovi i link alle pagine di presentazione dei corsi. Come dico sempre il miglior investimento è su se stessi. Ok, detto questo ragazzi entro in argomento e vi dico subito da dove ho preso spunto per questa riflessione fotografica, da un video di Roby Wong che è stato per diverso tempo un ambassador di Olympus, attualmente non è più ambassador OM System, mi sembra di aver capito che è stata una sua decisione ma non ha importanza, fatto sta che Roby Wong che è stato un grandissimo utilizzatore di Olympus e senza dubbio, Olympus deve essere riconoscente a Roby Wong perché sono per certo che tanti prodotti venduti da Olympus e anche grazie al lavoro che ha fatto negli anni appunto Roby Wong, un ragazzo che devo dire la verità non lo conosco minimamente non ci siamo mai scritti però di pancia mi sta simpatico, mi sembra un classico bravo ragazzo. Il video che ha pubblicato in parte lo condivido in parte non lo condivido al di là del fatto che trovo molto fastidioso quando un ambassador o ex ambassador fa una sorta di dichiarazione a posteriore insomma dicendo le cose che poi effettivamente non gli piacciono o non gli piacevano del sistema fino a poco prima in realtà poi queste cose non uscivano fuori e quindi insomma dimostrandono di avere un approccio un pochino troppo marchettaro, quindi questa cosa devo dire che mi dispiace e su un personaggio come Roby Wong non sta bene perché ripeto sembra veramente una persona schietta, onesta, piacevole, ok? Quindi detto questo che è una mia considerazione personale. Roby Wong ha analizzato una serie di motivi per i quali secondo lui Olympus si è trovato poi a dover vendere la divisione fotografica. Ora partiamo da un presupposto la divisione fotografica è vero negli ultimi tempi era in perdita quindi non era non portava profitto ad ad Olympus e sicuramente è stata anche una è stato uno dei fattori principali e senza dubbio che ha spinto l'impus a vendere la divisione fotografica ma io credo che almeno da quello che è stato dichiarato e credo che abbia un senso, Olympus ha voluto come dire fare una sorta di spin off insomma di distaccamento della divisione fotografica perché sapeva che il core business è sempre stato ed era il medicale, aveva bisogno di concentrare al 100% le energie economiche e anche proprio di infrastrutture per quanto riguarda il reparto medicale, il reparto medicale che a differenza di diversi anni fa ha molti più competitor soprattutto di tipo cinese e quindi ha ritenuto che il core business e il reparto medicale fosse più strategico che il reparto fotografico e come dagli torto questa è vero e verissimo e lo vediamo tutti i giorni e credo che ha fatto anche un'operazione ad oggi mi sembra proficua perché ha deciso comunque non di chiudere punto cedere fine del discorso arrivederci e grazie in realtà ha ceduto la società a un'altra società giapponese che sapete insomma ha creato poi l'OM e digital solution e ha creato l'OM system insomma il sistema EOM attuale che è in vendita e devo dire che l'OM digital solution sta facendo molto bene perché all'atto pratico i conti sono in pari quindi è una delle poche aziende che ha i conti in pari nel mondo della della fotografia i prodotti si stanno vendendo stanno producendo prodotti è vero certo grazie anche al know how il background del lavoro di Olympus ma comunque l'azienda è partita devo dire molto bene quindi in qualche modo ha detto benissimo noi non riusciamo più Olympus ha detto non riusciamo più a seguire in maniera convincente in maniera dando linfa vitale alla divisione fotografica perché abbiamo bisogno di risorse nel medicale e quindi è arrivato il momento di cedere il testimone a un'altra azienda che si occupa solamente di quello avrà ovviamente sulle spalle totalmente le responsabilità economiche delle proprie decisioni ma al tempo stesso ha anche tutto il focus sulla divisione fotografica cosa che prima non poteva accadere nel mondo Olympus quindi secondo me parlare di una scelta finale da parte di Olympus senza considerare a tutto tondo le motivazioni strategiche aziendali è già una visione estremamente miope del business di un'azienda così grande e importante come Olympus quindi fatto salvo comunque decisioni che sono di tipo strategico aziendale che il CDA di ogni azienda prende questo poteva farlo anche se Olympus fosse attiva fosse in pareggio magari avrebbe comunque Olympus venduto la divisione fotografica non c'è dubbio però che sotto la gestione Olympus ci sono state cose positive cose meno positive e che dubbiamente hanno influito sui risultati allora io vi dico le motivazioni di robbie wong e provo a ragionarci sopra una delle prime motivazioni poi ovviamente se volete andatevi a vedere il video non c'è nessun problema insomma è in inglese però potete mettere eventualmente i sottotitoli comunque io ovviamente stintitizzo un po' il concetto chiave non è che adesso riporto pari pari quello che ha detto lui perché la riflessione fotografica è mia ovviamente allora me le sono insegnate e dice una delle prime motivazioni è che Olympus non ha creduto nel mondo video soprattutto per quanto riguarda nella creazione di prodotti dedicati ai coloro che creano contenuti sui social effettivamente oggi i produttori giapponesi sono resi conto tutti quanti ma questo diciamo è una consapevolezza piuttosto recente che il mercato dei creatori di contenuti online è un mercato incredibilmente ampio e vasto e si stima addirittura 50 milioni di potenziali clienti per cui sicuramente è un mercato che può dare guadagni che può dare su cui si può creare un business no si possono creare dei prodotti Olympus è partito in un'epoca in cui sostanzialmente era fotografia e poi staccato era il video c'era il video insomma quindi con una forte presenza sul mercato fotografico il know how il core business cioè il le competenze di Olympus sono sempre stati in ambito prevalentemente fotografico e ottico sì è vero non ci ha creduto non è stata sufficientemente tempestiva rispetto ad altri brand nel capire che il video poteva essere un elemento di vendita molto importante un fattore di vendita molto importante io questo l'ho detto anche in altre riflessioni fotografiche fui anche criticato all'epoca per questa cosa però è un dato di fatto il video oggi è un elemento strategico per la vendita delle fotocamere credo che olympus quest'anno del poi abbia capito questo concetto sono convinto che l'om system produrrà anche prodotti molto orientati alla appunto a coloro che creano contenuti social eccetera ne sono fermamente convinto sì è un fattore che può avere influenzato come dire il futuro del di olympus ma non credo che sia poi così non credo che sia stata così determinante e non credo che abbia limitato enormemente le vendite ci sono insomma lo dimostra il fatto che se noi prendiamo ad esempio fuji fuji ha sicuramente creduto di più nel video ma la maggior parte di coloro che comprano fuji non lo fanno perché per le caratteristiche video lo fanno per le caratteristiche fotografiche comunque e comunque le caratteristiche che sono presenti dal m5 mark 2 ma soprattutto dal m1 mark 2 m1 mark 3 eccetera sono comunque caratteristiche che sono più che sufficienti per coloro che vogliono creare contenuti sul web è anche vero che non si può pensare di creare prodotti estremamente cheap estremamente entry level non sta vedendo che la politica di sony ormai di panasonic eccetera su prodotti invece più evoluti proprio per questo tipo di categoria più che su prodotti incredibilmente entry level quindi onestamente sì vero olympus non ha creduto nel comparto video più di tanto insomma ha fatto il compitino in casa diciamolo in questo modo ha raggiunto la sufficienza deve sicuramente investire nel comparto video ma non credo francamente che sia stato l'elemento poi determinante per le vendite insomma di fotocamere micro 4 terzi insomma della diffusione del micro 4 terzi l'altro punto dice non ha puntato sul target professionale ora su questa cosa sono più convinto sono più d'accordo con robbie wong cioè effettivamente a differenza di altri marchi in primis fuji ma anche se vogliamo sony non ha fatto una politica di ambassador sono una politica per coinvolgere molti professionisti e questo secondo me è un errore è vero che strategicamente il mercato più ampio è quello dei fotomatori professionisti ormai sono quattro gatti di sfigati cioè perché ormai insomma sappiamo mi ci metto in mezzo ma insomma non è che c'è tutto questo mercato il fotografico con tutti questi ricavi margine eccetera mercato fotografico purtroppo è in professionale è sta scomparendo questo è un dato di fatto ma a prescindere da questo quindi se è vero che da una parte il mercato più grande è quello dei fotomatori è anche vero che tu avvicini il fotomatore proprio perché utilizza l'attrezzatura utilizzata da molti professionisti molti mi dicono ma questa da mano è una politica più degli anni 80 80 90 oggi non è più così io non sono assolutamente d'accordo io invece sono convinto che se moltissimi professionisti avessero usato un corredo olimpus nei vari generi fotografici e avessero fatto opera di proselitismo insomma avessero in qualche modo dato l'esempio che con questi strumenti si possono ottenere risultati importanti sono convinto che tante pippe mentali tante paranoie tante rotture di palle mostruose si sentono sul micro 4 terzi scomparirebbero o quantomeno venivano compensate dai risultati del professionista quindi il professionista non c'è dubbio che è comunque un esempio positivo per il potenziale foto amatore e può fare fortemente da traino d'altro canto ragazzi le chiacchiere stanno a zero se noi prendiamo fuji fuji ha fatto un'azione di comunicazione straordinaria perché ha fatto un lavoro enorme con gli x photographer che di fatto hanno trainato le vendite hanno fatto sì che tantissimi altri professionisti si avvicinassero al mondo fuji e poi di lì anche il foto amatore diceva se ce l'hanno tanti professionisti mi avvicino anch'io quindi è comunque un riferimento positivo cioè bisogna creare dei riferimenti positivi che fanno sì che diano certezza e stimoli al potenziale acquirente foto amatore quindi è vero credo che olympus non abbia creduto fine fondo su un target professionale poteva farlo poteva farlo di più non tanto producendo il full frame piuttosto che il super full frame che poteva essere una mostra commerciale anche sensata ma quanto come azione di comunicazione da questo punto di vista sono fermamente convinto che olympus onestamente poteva fare meglio sul piano della del comparto diciamo appunto professionale io credo e questo aggiungo a mio giudizio non l'ha detto robbie wong ma lo dico io a mio giudizio un motivo che ha in qualche modo è un po castrato permettetemi di dire il sistema all'epoca di olympus non sto parlando adesso dell'ome system è il fatto che olympus ci abbia messo veramente tanto tanto tempo nel creare ottiche che come dire compensassero tra virgolette i limiti dovuti alla dimensione del sensore sto parlando alle ottiche ad esempio f1.2 ma anche non ha mai puntato su un obiettivi in parto l'ha fatto nel 4 terzi ma la tecnologia era ancora troppo primordiale anche se le lenti erano in realtà stratosferiche non ha mai puntato su un obiettivi che in qualche modo compensassero appunto le carenze del micro 4 terzi che sappiamo quali sono sono non poter ottenere delle degli sfocati estremamente cremosi stile full frame del fatto del non riuscire ad arrivare ad altissimi iso così come fa un full frame queste sono le principali ragioni poi c'è il tema dell'autofocus ma ci arrivo fra poco quindi comunque era necessario per convincere un pubblico più professionistico diciamo in questo modo era necessario produrre molte più lenti luminose molto luminose quindi zoom f2 ad esempio o addirittura 1.8 come ha fatto poi successivamente panasonic è vero le dimensioni crescevano diventavano più importanti è vero ma è anche vero che se uno voleva avvicinarsi al mondo micro 4 terzi doveva necessariamente poteva utilizzare ottiche molto luminose e quindi avere poi benefici del fatto che ok utilizzo ottiche luminose con una maggiore profondità di campo significa che posso evitare di dover chiudere il diaframma e quindi evitare di andare su ad alti iso e questo è uno dei vantaggi del micro 4 terzi per cui è questo è stato una carenza ci sono arrivati troppo tardi a capire questo concetto e ottica 1 e 2 insomma sono arrivate insomma dopo diversi anni che esisteva il 4 terzi e il micro 4 terzi per non parlare del fatto che appunto dovevano essere prodotte ottiche più smart cioè il micro 4 terzi io lo dico lo ridico ormai da parecchio tempo ti permette grazie alla dimensione del sensore di produrre renti con range soprattutto zoom e con range di focali fuori dei classici schemi 24 70 70 200 100 400 e bla 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 cioè poi produrre delle dei range di focali molto più interessanti molto più vicini anche alcuni mondi fotografici come poteva essere non so un equivalente full frame un 20 50 mm oppure addirittura un 24 50 mm magari molto luminoso molto più luminoso di un 28 in sostanza doveva secondo me olympus puntare su tutta una serie di tipologie di focali anche pensando al video che invogliassero il cliente ad avvicinarsi a quel sistema e grazie appunto alla luminosità maggiore compensare di fatto le carenze tra virgolette rispetto al full frame questa è stata una cosa che secondo me sul olympus non ha compreso fino in fondo poi robbie wong afferma che la politica del piccolo non è più sufficiente cioè la campagna marketing di sempre stata al punto di forza di olympus della compattezza della leggerezza oggi come oggi non è più sufficiente perché esistono fotocamere mirrorless molto vicini in termini di gombri e pesi allora io su questa cosa devo dire la verità non sono d'accordo a parte il fatto ripeto che fino a ieri diceva una cosa diversa e quindi francamente la coerenza ciao ma comunque uno può cambiare idea ci mancherebbe io su questo aspetto non sono d'accordo non sono d'accordo perché è vero i corpi macchina se uno prende un olympus un m1 non è tanto più piccola rispetto a una sony a7 4 per fare un esempio siamo più o meno lì ma non è tanto più piccola per una ragione semplice perché non è che può fare una roba microscopica poi come la tieni in mano cioè l'ergonomia richiede comunque inevitabilmente soprattutto se è un prodotto un pochino più pro richiede un certe dimensioni certi ingombri certe misure perché altrimenti la macchina non è utilizzabile non è comoda da utilizzare per cui in realtà è la scelta del avere un corpo comunque ergonomico è una scelta sensata e convincente sulle ottiche non sono assolutamente d'accordo è vero che con full frame oggi ci sono ottiche f2 tutto sommato piccoline eccetera ma è anche vero che a parità di peso e di ingombri io posso comprare nel micro 4 terzi ottiche 1.2 1.4 insomma ottiche molto più luminose e anche molto più performanti cioè comunque un caratteristico ottiche di livello superiore quindi è con un prezzo più o meno siamo lì cioè un ottica f2 per per il mondo full frame costa più o meno quanto un 1.2 nel mondo micro 4 terzi poi dipende da casa a caso è per l'amore del cielo però non è che c'è un abisso non è che le ottiche 1.2 di olimpus costano 5.000 euro e quelle degli altri sistemi f2 costano 500 euro non è così insomma i prezzi sono abbastanza sovrapponibili ma io onestamente ragazzi preferisco tutta la vita avere un'ottica compatta 1.2 piuttosto che un'ottica più o meno simile come dimensioni f2 per una ragione semplice perché io continuo a dire che il tempo di scatto è una variabile fondamentale cioè nella stessa condizione di luce io posso avere un tempo di scatto molto più veloce quindi con meno rischio di mosso di soggetti in movimento oppure posso utilizzare valori iso molto più bassi a parità di tempo di scatto e con un diaframma più luminoso e quindi cosa significa significa meno rumore e più gamma dinamica questo ne ho parlato in diversi video l'ho detto e ripetuto più volte è un vantaggio è un aspetto avvantaggio del del sistema in micro 4 terzi insomma del 4 terzi in generale quindi onestamente io non sono d'accordo ci sono nel mondo del micro 4 terzi ottiche con un'escursione focale che stanno veramente importante io ho fatto un video quando ho parlato del m1 andavo dalla con l'8 25 mm e poi con il 40 150 andavo praticamente dal 16 mm al 300 mm f4 costante con ottiche pro quindi con qualità di lenti serie con del vetro tropicalizzate eccetera eccetera e stavano in un marsupio col compreso il corpo macchina e compreso tra l'altro diciamo il kit di filtri andatevelo a vedere lo trovate nella playlist che ho fatto legato all'olimpus insomma al micro 4 terzi e ho fatto una giornata intera con una escursione focale praticamente senza limiti ora dove trovi nel mondo del psc del full frame una roba del genere non la trovi quindi onestamente è vero se uno considera il corpo macchina con l'ottico f2 più o meno insomma circa f2 del full frame è vero che ci sono sistemi compatte anche nel full frame è vero che si sono ridotti grazie a dio ma non è del tutto vero le ottiche ad esempio il 24 70 70 200 28 ancora oggi nel mirrorless nel full frame sono ottiche costose pesanti e ingombranti la verità è questa l'equivalente nel micro 4 terzi sono molto più leggere molto più compatte e meno ingombranti e sono di altrettanta qualità sia costruttiva che di qualità ottica per cui non sono assolutamente d'accordo con robbie wong secondo me ha preso una capocciata per dire una roba del genere e era un momento di stordimento questo è un po la mia opinione leggo un'altra un'altra motivazione dice la qualità di immagine sostanzialmente la stessa perché il sensore è sempre stato lo stesso questo non mi rimangio le parole l'ho detto in altre riflessioni fotografiche secondo me è stato uno degli errori chiave da parte di olympus ora io sono convinto che l'olimpus utilizzasse una tecnologia di sensore che comunque era tutto sommato moderno o quantomeno competitiva rispetto ad altri brand cioè m1 mar 3 se tu la consideri allo m allo m1 a parità tra l'altro di definizione non è che l'em 1 mar 3 che è un sensore molto più datato fa cagare e lo m1 è meraviglia siamo più o meno lì nonostante lo m1 monti la tecnologia di sensore il top del top che c'è al momento stacca del retro illuminato quattro cioè c'è veramente di tutto però è un discorso commerciale di immagine cioè il fatto di dire vedete stiamo innovando stiamo cercando di migliorare il sensore poi i risultati sostanzialmente sono gli stessi ma anche perché ragazzi dal 2014 circa ad oggi non è che ci sono stati stravolgimenti anche negli altri brand cioè la verità questa l'unica vera introduzione è stato lo stacker quindi di fatto rimaneva uguale più o meno la qualità d'immagine però il segnale che tu dai è che stai investendo stai credendo ma col senno del poi si capisce perché si capisce perché l m5 mar 3 era in qualche modo un clone dell m1 mar 2 anche se poi è stato diciamo aggiornato via firma è stata migliorata perché la casa probabilmente già sapeva quelle quale fossero somma i piani anzi era conoscenza dei piani strategici e quindi che a un certo punto avrebbe probabilmente ceduto la divisione fotografica quindi non aveva senso investire in altre tecnologie questa è una mia supposizione quindi sì è vero il sensore è sempre stato lo stesso andava in qualche modo aggiornato mandava mandato un segnale bisognava mandare un segnale di rinnovamento di cambio di passo non credo che avrebbe fatto una differenza sulla qualità d'immagine in realtà però era forte sul piano commerciale il messaggio il segnale quindi da questo punto di vista sono d'accordo con robie wong però bwong dice la strategia dei prezzi è stata sbagliata cioè costa troppo ora anche su questo caro robie wong ma fine ieri cioè hai rotto le palle su sta storia adesso non è tipo rimangiare le parole non sta è veramente brutta come come immagine ora io non sì è vero molte persone hanno in testa che almeno 4 terzi sia troppo costoso così come anche la psc e rispetto a full frame costa tanto io su questa cosa ragazzi vi devo dire la verità non sono del tutto d'accordo cioè sono d'accordo sul fatto che se chiaramente l'om1 facciamo un esempio invece di 2100 costasse 1400 euro ne avrebbero vendute assecchiate ok su questo possa essere d'accordo però è anche vero che un prodotto ragazzi va vissuto e visto in maniera olistica cioè maniera globale cioè non è che puoi considerare solo la dimensione del sensore come unica variabile per la quale un prodotto deve costare di più o di meno è un ragionamento stupido concedetemi il termine cioè non sta in piedi cioè non è che se considero la macchina un'autovettura in base alla cilindrata del motore o allora dico beh no no non posso pagare un 1600 come un 2008 no al stesso prezzo cazzarola ma dipende dalla macchina che c'è intorno cioè dalla componentistica da tutto il resto dalle funzioni da quello che ti permette olimpus ha sempre fatto una scelta giusto sbagliate che sia piuttosto coerente dice è il prodotto che conta tutte le tecnologie che ci sono dentro le innovazioni che ci sono dentro che sono oggettivamente uniche ci sono ancora oggi produttori che non ci sono ancora arrivati alla tecnologia dell'olimpus non è che voglio difenderla però è andato di fatto e quindi è giusto che queste tecnologie vengono pagate sul piano commerciale secondo me certo un gap un pochino maggiore di differenza rispetto al suo frame la psc avrebbe giovato senza ombra e dubbi amico 4 terzi ma comunque capisco la politica di olimpus e capisco vi devo dire la verità apprezzo anche olimpus che non ricorre costantemente a politiche di cashback di instant rebate e bla 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 perché questo ragazzi sostanzialmente è vero che premia chi vuole comprare ma è anche vero che svilisce chi vuole fare un upgrade cioè io ho un corredo l'olimpus e se tu me lo svendi facendo cashback instant rebate in continuo cioè di fatto la mia attrezzatura che magari avrei dato dentro per prendere un modello nuovo non te la do dentro perché ci rimetto troppi soldi quindi ci sono i pro e i contro se poi analizziamo complessivamente un sistema olympus quanto costava rispetto a un sistema full frame tenendo conto soprattutto degli obiettivi cioè l'equivalente 24 70 70 200 oppure dei super tele ragazzi la differenza di prezzo è veramente importante quindi sui corpi è vero la differenza a volte poteva essere un pochino maggiore per dare quella spinta commerciale quell'input no a far sì che le persone e far scattare insomma il trigger nella testa delle persone a comprare entrare nemmeno 4 terzi è anche vero che se poi tu consideri certi tipi di focali e certi tipi di obiettivi con il corpo macchina quindi il sistema è molto competitivo soprattutto nel mondo ad esempio della bifauna della fotografia naturalistica eccetera eccetera quindi sul prezzo sono d'accordo ma in parte io vi dico una cosa secondo me uno dei motivi che ha limitato la diffusione di olympus io feci uno dei miei primi video fu proprio le quattro ragioni che fanno sì quattro caratteristiche che permettono a una fotocamera quindi un sistema di diffondersi no disse l'importanza della resa dal tiso insomma della qualità d'immagine al tiso e gamma dinamica l'importanza dell'autofocus il prezzo il sistema eccetera ora del prezzo non abbiamo già parlato io credo che un limite è stato che fino praticamente all m1 mar 2 al firmware 2.1 mi sembra che sì che fosse comunque fino quasi al 2016 2017 olympus non aveva onestamente un autofocus estremamente performante molto molto valido ma non era incredibilmente performante soprattutto per quei generi fotografici dove il micro 4 terzi può essere veramente un vantaggio penso alla vifauna la carcia fotografica eccetera eccetera fotografie sportive e così via insomma dove si utilizzano i lunghi fuochi quindi da quel punto di vista sì secondo me un elemento che ha fortemente penalizzato l'impos è stato proprio il sistema autofocus non c'è dubbio ragazzi che il sistema autofocus è un elemento fondamentale per il successo di una fotocamera e di conseguenza poi di tutte le ottiche compatibili che possono essere usate per determinati generi fotografici non essere performante sul piano dell'autofocus significa castrare le vendite limitare enormemente proprio il bacino di utenza quindi questo è un dato di fatto lo dimostra l'um1 che con un sistema autofocus molto più performante ha convinto tantissimi utenti lo dimostra sony in primis che ha fatto dell'autofocus il cavallo di battaglia lo dimostra canon che quando aveva le prime serie r che aveva un autofocus non ancora performante sostanzialmente non hanno convinto nonostante prezzi competitivi appena l'autofocus è diventato veramente performante le vendite sono aumentate tantissimo nonostante i prezzi comunque molto importanti quindi onestamente credo che l'autofocus sia un elemento determinante così come la resa ovviamente dal tiso ma su questo purtroppo allo stato attuale della tecnologia non è che si possono fare ancora miracoli io credo e vado in chiusura di questo video che un altro errore sia stato e un errore di fondo sia stato appunto legato alla comunicazione olipus a mio giudizio e guardate che insomma ho un background anche accademico in questo senso si è mossa veramente male cioè veramente male cioè poteva fare molto molto meglio l'OMSystem sta facendo infatti molto meglio sul piano della comunicazione è molto più convincente sta lavorando sugli ambassador soprattutto per quanto riguarda una categoria di fotografi sta spingendo molto di più ma si vede anche un errore di fondo un'ingenuità di fondo in olympus nel chiamare il sistema micro 4 terzi ora è vero che fa capire che è una come dire compressione una riduzione del 4 terzi quindi un'ulteriore riduzione di taglia che è un po il dna no nella filosofia olympus cioè creare corpi macchine sistemi leggeri piccoli eccetera eccetera versatili lo sappiamo però mentalmente già la gente ti rompeva le palle sul fatto della dimensione del sensore ok e tu cosa fai vai nel mondo del quattro terzi questo quindi con le reflex tu cosa fai vai a chiamare il sistema nuovo micro quattro terzi quindi è come darsi una mattonata sulle palle cioè ragazzi scusate la franchezza insomma se non utilizzo i francesismi diciamo ma è una cosa assurda cioè non ha senso in questa cosa cioè è veramente controproducente quindi secondo me è stato proprio sbagliato di fondo coloro che le persone si sono occupate di comunicazione di marketing in olympus onestamente non hanno fatto un grande lavoro sin dall'origine poi non conta solo la comunicazione comunicazione senza un prodotto si può spingere all'inizio ma poi dopo si frena perché la gente non è scema poi oggi nel mondo di internet c'è un tantam molto veloce per cui ok la comunicazione non è stata poteva essere fatta meglio e soprattutto a mio giudizio andava proprio ricreato un'immagine diversa rispetto al quattro terzi sapendo già quali erano le critiche che ti facevano cioè caro olympus tu venivi dal quattro terzi e io l'utilizzavo ragazzi quindi utilizzavo anche per i servizi per cui so benissimo di cui sto parlando tu venivi dal quattro terzi viene dal quattro adesso sai benissimo quali sono le critiche ma cavolo inizi con il mico quattro terzi capisco la tecnologia doveva svilupparsi eccetera eccetera ma inizia subito col piede giusto con campagne di comunicazione diverse con una politica di ambassador veramente forte cioè in italia non è mai stato fatto nulla praticamente sulla sulla sulle politiche di ambassador in parte in europa in poi in germania in spagna ma insomma veramente poco rispetto ad altri competitors inizia con obiettivi unici straordinari cioè che il full frame non potrà permettersi perché altrimenti deve fare obiettivi grandi come quelli di un barilotto cioè parti con un piede nuovo cioè sai quali sono le critiche boh inizi con sistema per quanto possibile è chiaro che l'autofocus all'inizio non era performante è stata coerente olympus insomma quello che ha detto l'ha mantenuto ci sono voluti degli anni ma per tutto il resto potevano veramente come dire dare tutto un'altra immagine e potevano lavorare tantissimo sulla comunicazione ma tantissima gente vi posso garantire all'inizio del mico quattro terzi pensavano che il mico quattro terzi fosse un sensore più piccolo del quattro terzi ma ve lo posso garantire noi siamo stati i primi i primi nel 2010 a partire con promiroless e noi utilizzavamo per il video e per la fotografia il mico quattro terzi e vi posso garantire che ci arrivavano email su email dicendo ma cos'è il mico quattro terzi è una roba non cos'è un sensore da un pollice ma la qualità è uguale a quella del quattro cioè proprio non capivano e se l'utente non capisce va bene ci saranno un po qualche scemo però la verità è che la responsabilità è di colui che comunica se non t'hanno capito devi comunicare di più devi comunicare meglio secondo me è stato veramente la comunicazione uno degli aspetti più deficitari di olympus ora un po per non lo so per quale motivo secondo me semplicemente perché olympus ripeto aveva il focus sul medicale per cui destinava magari poche risorse poche energie nell'ambito fotografico non sto dicendo che fossero degli netti semplicemente magari avevano budget quelli della divisione fotografica molto molto più limitati molto limitati e quindi non riuscivano a fare campagne più di tanto magari insomma sono stati in sostanza limitati dalle esorse che avevano a disposizione però è un dato di fatto che in quest'epoca lo era già nel 2011 ma oggi ancora di più la comunicazione ha un ruolo essenziale e devi fare tanto tanto coinvolgimento all'inizio io vi posso garantire c'era una sorta di boicottaggio nei confronti anche degli youtubers cioè a olympus gli youtubers spesso stavano sui coglioni a volte ha ragione a volte ha torto comunque devi creare un dialogo sony è stata una dei primi che ci ha creduto a questo punto di vista coinvolgendoli creando un ponte noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle per cui ripeto le cause sono tante prima di tutto strategica aziendali che sono secondo me la madre delle scelte finali ma non c'è dubbio che olympus a un certo punto ha fatto fatica a imporsi soprattutto quando sony è entrata a spingere veramente tanto non ce lo dimentichiamo comunque ha fatto fatica ad imporsi soprattutto in alcuni mercati perché in giappone olympus è sempre andata da dio è sempre andata benissimo ha delle responsabilità non credo a tutto ciò che ha descritto robbie wong nel suo video detto questo ragazzi riflessione un pochino lunghina ma insomma spero interessante fatemi sapere cosa ne pensate voi siete utilizzatori del mico 4 terzi magari da parecchi anni cosa ne perché secondo voi insomma le cose sono andate come sono andate siete contenti alla fin fine della scelta fatta siete contenti di un m system cosa avrebbe dovuto fare insomma come sempre ragazzi scrivete vostre opinioni anche non solo utilizzatori del mico 4 terzi semplicemente appassionati di fotografia di mercato fotografico perché dalle opinioni nascono sempre soprattutto se costruttive intelligenti nascono magari spunti interessanti per fare nuovi video o chissà magari come feedback per colore che poi vivono e si occupano della produzione e distribuzione di fotocamere detto questo ricordatevi di iscrivervi al canale vi ricordo in descrizione i link ai nostri corsi di fotografia ciao ciao